Sono 40 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Dei 40 censiti dall'ASP di Caltanissetta al 30 di gennaio, soltanto 8 sono i nuovi positivi a Caltanissetta, che conta in tutto 240 positivi e in tutto sono 95 i guariti. A Caltanissetta 212 sono i positivi in quarantena domiciliare, 31 sono quelli ricoverati in malattia infettiva, 1 ricoverato in terapia intensiva. Nella totalità sono 1178 i positivi in quarantena domiciliare, 82 sono i ricoverati in malattia infettiva e sono dati per tutta la provincia e 9 invece sono i ricoverati in terapia intensiva. Rispetto alla terapia intensiva si contano due nuovi ricoveri, mentre sono due ricoveri in meno quelli dei reparti di malattie infettive. Sono 138 in tutto i decessi dall'inizio della pandemia.